Ciao a tutti, oggi apriamo un uovo di Pasqua a Nestlé, il Galak, quello con il cioccolato bianco. Questo ce l'ha dato mia cognata, per la sorella di mio amoroso. E vediamo insieme. Qui ci sono sempre comunque giochi da bambini. Una volta avevamo trovato, se non sbaglio, un pallone. Un'altra volta tipo un gioco con le carte, tipo domino, una roba del genere. Questo qui, non vi so dire sinceramente il prezzo, è quello da 210 grammi, con le sorprese di Plouffe. Che comunque ogni anno, anche gli anni scorsi, c'erano sempre loro, non sono distinte da maschio o femmina. Quindi puoi trovare l'uno o l'altro. Questo è l'ovetto. Penso che sia da maschio, perché vedo la confezione blu. Che cos'è? Mi sembrava una pasta polimerica all'inizio, con le confezioni. Vediamo se riesco ad aprirlo. È un puzzle. Sono quei puzzle, penso che siano quelli adesivi da attaccare al frigorifero. Sì, perché dietro c'è il magnete. Lo facciamo al volo. Questo lui col pallone, fluff, fluff. Questo va qui. Questo va qua. Che piccola estrema questo. Guarda che la tua voce non la tolgo da sotto. Va bene, va bene. È per far capire quanto è difficile fare. Vabbè, certo. Comunque, è questo qui. Con tutti, diciamo, i vari personaggi. Adesso l'ho fatto un po' alla buona. Sarebbe praticamente questo. Il cioccolato è buono. A me ci piace un casino questo qui. Quel bianco. L'ideale è che poi, va bene, noi parliamo. Niente, questo è tutto. Il giorno di Pasqua apriremo degli ovetti, più uno particolare che vedremo insieme. Se vi interessano le altre uova di Pasqua che ho aperto, vi metto il link dei video e anche tutta la playlist con le uova di Pasqua anche degli anni precedenti. Se vi può interessare, fatemi sapere anche voi che cosa avete trovato. E ci vediamo presto. Ciao, ciao. Ciao.